Buongiorno a tutti, molti di voi già mi conoscono perché mi hanno avuto come professore, mi hanno già visto in altre presentazioni del portfolio, un po' di quelle che sono le linee guida e le regole generali per la combinazione del portfolio stesso. Per chi invece non mi conosce, io sono Roberto Giordano, sono fino alla fine di questo mese il referente, il coordinatore del corso di laurea in architettura, il bachelor program in architecture. Qui alla mia destra, alla vostra sinistra, trovate invece il professor Massimiliano Loturco che dal primo di ottobre prenderà l'incarico di coordinatore a cui a breve dovrete, se rimanete perlomeno ancora nella triennale per un po' di tempo, rivolgere ogni domanda e ogni questione. Chi di voi mi ha già conosciuto e mi ha già avuto come professore corre un severo rischio di trovarmi anche nel corso di laurea magistrale perché dal primo di ottobre invece sarò il referente del corso di laurea in architettura per il progetto sostenibile, quindi spero di non accompagnarvi in una serie di disgrazie per i prossimi due anni ancora e che invece tutto prosegua per il meglio. No, dicevo, per migliorare il servizio vorremmo costruire un sistema audio e video che voi possiate avere, che i vostri colleghi soprattutto potranno avere a disposizione nel prossimo futuro. Qual è l'obiettivo di questo incontro invece? Veniamo a quelle che sono le solite presentazioni. Oggi noi nell'ambito di questa presentazione entreremo a commentare, faremo qualche commento, aggiungeremo qualche commento a quelle che sono già le informazioni che sono abbondantemente descritte nella sezione prova finale del vostro piano di studi. Quindi per tutti i vostri colleghi che oggi non sono qui per svariati motivi, perché hanno un esame, perché hanno dei problemi personali, che possono chiedervi delle eventuali informazioni, dite che tutto quello che è contenuto all'interno della sezione prova finale è più che sufficiente per poter elaborare in maniera efficace ed efficiente il proprio portfolio. Quindi di fatto noi nell'ambito di questi tre punti che andremo a sviluppare, che riguardano le regole e le procedure, la valutazione dell'elaborato, quindi quelli che sono i criteri e le regole per valutare i punteggi, nonché quelle che sono le indicazioni di massima relativi al layout e un po' alle regole editoriali, sono già tutte descritte nella sezione prova finale, pertanto non è che quello che aggiungerò io oggi sarà particolarmente significativo. Beh direi che a questo punto possiamo iniziare con questi tre punti, partendo proprio da quelle che sono le regole e le procedure. Regole che già conoscete, voi sapete che per poter accedere alla prova finale voi dovete aver completato il vostro percorso di studi, quindi aver raggiunto i cosiddetti 177 crediti. Ovviamente sappiamo che la sessione di laurea va a sovrapporsi con quella che è la sessione di esame, pertanto alcuni di voi, non tutti, in questo momento si sono iscritti o si stanno per iscrivere con la cosiddetta procedura di riserva, il che significa che in alcuni casi perché il saggio di ricerca non è ancora stato completato e registrato, perché il workshop non è ancora stato registrato dal referente, che sono sempre io, perché l'esame non è ancora stato registrato dal docente e alla segreteria non è ancora pervenuta la registrazione, è possibile che alcuni di voi si siano iscritti con riserva. Poi ci sono sempre casi speciali, ma sappiate che nella maggior parte dei casi, questi casi si sono sempre risolti e quindi anche chi si è iscritto con riserva con buona pace dovrebbe laurearsi entro la sessione di settembre. La prova finale, anche questo riportato all'interno della sezione dedicata alla descrizione del portfoglio, corrisponde a un totale di tre crediti formativi, pertanto 177 più 3 vi consente di laurearvi con i cosiddetti minimi ministeriali di 180 CFU, sapete anche molto bene che chi di voi ha più in questo momento di 177 crediti si laureerà comunque con la media pesata rispetto ai 180, poi ci sono casi e casi perché c'è chi ha il workshop che non ha punteggio, c'è chi ha magari un corso che può aver seguito scegliendolo nel catalogo di Ateneo o di altre università, però tendenzialmente poi la media viene riferita ai 180 crediti formativi complessivi. Cosa invece molto importante che va al di là delle regole e delle procedure, ma che dovete ricordare che è già riportata all'interno della sezione prova finale è che quello che voi state facendo, quello che voi state per produrre è di fatto un elaborato personale, quindi anche nel momento in cui voi avete lavorato, cosa assolutamente normale scontata nell'ambito della vostra attività di studenti su atelier, laboratori in collaborazione con altri studenti, il portfoglio deve essere assolutamente un elaborato di tipo personale. Perché? Perché sostanzialmente quello che deve emergere al pari di quello che avviene in altri portfogli che sono sviluppati, che sono presentati nelle altre scuole di architettura europee, è molto importante che l'elaborazione sia un'elaborazione autocritica, dove ci sia anche la consapevolezza di dire, beh rispetto al primo anno, al terzo anno, quello che ho fatto il primo anno nel primo atelier era certamente un po' ingenuo, io però sono consapevole che il percorso che ho fatto è un percorso che effettivamente mi ha consentito in questi tre anni di capire anche gli errori che ho commesso. E quello che in qualche modo emerge, o deve emergere, è il fatto che questa capacità di autocritica sia uno degli elementi su cui siete valutati positivamente dai docenti. Quindi dire che avete fatto schifo non vuole dire automaticamente avere una valutazione negativa, vuol dire essere consapevoli, voi per primi e i docenti lo apprezzano, del fatto che avete compiuto un percorso maturo verso quello che è il primo livello della laurea in architettura, ok? Quindi questo è molto importante che voi lo sappiate. Peraltro il fatto che il lavoro sia fatto a titolo personale è molto importante perché trattandosi di un percorso autocritico inevitabilmente deve essere qualcosa che maturate a titolo personale. Cioè questo non è un gruppo di coscienza dell'alcolista anonimi dove ci sediamo tutti intorno a un cerchio, diciamo sono tre settimane che non bevo gin tonic. No, questa è una valutazione che voi potreste utilizzare in un prossimo futuro per presentare il vostro lavoro presso uno studio, qualora qualcuno di voi non intendesse proseguire nella laurea magistrale, che potreste presentare laddove richiesto in altre scuole di architettura, nell'ambito di internship o nell'ambito di esperienze post curriculari che sono previste, nell'ambito di quelle che sono le attività più o meno regolate dall'Ateneo e pertanto è ovvio che ci deve essere una valutazione personale. Ho insistito molto su questo aspetto perché purtroppo, come spesso avviene, alla fine c'è un po' una tendenza, visto che oramai è più di un anno che abbiamo il portfoglio, di guardare molto quello che hanno fatto i vostri amici e di andare in un'operazione un po' di copia e incolla. Nella scorsa sessione, questo lo può confermare Massimiliano perché era presente in commissione di laurea e abbiamo dovuto riscontrare un paio di casi di plagio, cioè gente che aveva fatto copia e incolla dall'amico o dall'amica che si era presentato nella sessione precedente o peggio ancora nella stessa sessione, che è il massimo dell'ingenuità. Quindi non crediate che la commissione al mattino sfogli il vostro lavoro e dia dei punteggi a caso, lo fa con grande cura, con grande attenzione e facendo una comparazione. Quindi senza voler essere catastrofisti, senza voler creare un sano panico nella vostra attività a future, però su questi elementi dovete far molta attenzione. Fate un lavoro personale. D'accordo? Allora, tutte quelle che sono le indicazioni e le procedure, come vi ho già anticipato, le ritrovate sul portale della didattica, nella sezione del corso del regolamento didattico trovate la prova finale con la descrizione e dove di fatto trovate le indicazioni che vi stiamo dando, che vi sto dando, più sintetiche sicuramente. Un discorso identico per quello che riguarda il programma del architecture, quindi il bachelor program, però mi è sembrato di capire che non ci siano questa mattina degli studenti stranieri. Quali sono le lingue con cui potete preparare il portfolio? Noi abbiamo due lingue ufficiali alla scuola di architettura che sono l'italiano e l'inglese. Pertanto, chi, per ragioni che in qualche modo sono anche da descrivere, intende, dopo aver seguito l'intero percorso in lingua italiana, sviluppare il portfolio in lingua inglese, ne ha facoltà. Perché ha deciso di andare in Dovene, tutto sommato avere un portfolio in lingua inglese gli fa comodo. Perché ha deciso di andare a lavorare a Copenaghen, ma sempre in un paese del nord Europa, una noia, ha deciso di andare in Siria, così, giusto per fare un'esperienza. E allora, indubbiamente, ha bisogno di avere una lingua con la quale si parla a livello internazionale, pertanto ha facoltà di farlo in lingua inglese. Allo stesso modo, chi del corso del program architecture ha deciso di proseguire nel percorso in italiano o ha deciso nel frattempo di studiare molto bene l'italiano e si sente pronto per scrivere un portfolio in lingua italiana, ne ha assolutamente facoltà. Abbiamo poi introdotto, e anche questo è scritto nel piano di studi, la possibilità di selezionare una lingua diversa. Normalmente le lingue che noi raccomandiamo, ci sono stati pochi casi, devo dire, in questo anno e mezzo, sono le lingue cosiddette europee, quindi pertanto chi per ragioni particolari dovesse decidere di farlo in tedesco, in francese o spagnolo, direi che non ci sono problemi. La cosa importante è che questo sia comunicato in maniera anticipata al referente, che almeno fino al 30 di settembre sarò io, in modo che nella commissione di valutazione ci sia un docente in grado di leggere lo spagnolo, di leggere il tedesco e di leggere il francese. Quindi questa è una cosa che vi domando qualora qualcuno di voi decidesse di optare per una soluzione di una lingua che non sia l'italiano o l'inglese. Un po' lo abbiamo già introdotto, quali sono gli obiettivi del portfolio? Il portfolio non deve essere una mera collezione di immagini, di disegni, di testi che avete elaborato in questi tre anni. L'ho detto e lo ripeterò ancora più di una volta in questa occasione, è molto importante che si tratti di un elaborato personale dotato di una certa capacità di critica o autocritica del lavoro che è stato condotto in questi tre anni. Dimostrare di avere capacità critica e di sintesi rispetto a quanto appreso durante il processo formativo. Questo è fondamentale, ragazzi, perché è uno degli elementi di valutazione più importanti. Poi ci sono altri elementi che sono ovviamente importantissimi. Si può avere una grande capacità critica o autocritica, ma non si è in grado di esprimerla. Dopo tre anni, noi ci aspettiamo, ho tenuto conto che si parla oramai di scuola di architettura, che dà l'idea un po' di un'esperienza quasi primaria, un po' come se uno andassero elementari. School of Architecture, scuola di architettura, non dobbiamo dimenticarci che siamo all'università. Quindi voi, dopo questa esperienza, teoricamente e anche praticamente, siete dei professionisti o potenzialmente dei professionisti che potrebbero andare a lavorare. Quindi dovreste essere in grado di scrivere una relazione, un report tecnico. Quindi io capisco che qualcuno di voi magari ha anche scelto architettura perché così disegnavo di più e scrivevo di meno. Peccato che però poi, ad esempio, verificando, qui apro una parentesi, nei test di ammissione di architettura, costruzione, città e di APS, molti di voi, di fronte a delle richieste di disegnare, hanno fatto delle descrizioni. Quindi c'è qualcosa che dovete saper combinare molto bene, la parte descrittiva con la parte di disegno. Quindi la comunicazione diventa fondamentale e qui lo richiamiamo, così come riportato nella sezione pieno di studi, comunicare le proprie potenzialità, attitudini e interesse, ovviamente in maniera coerente al percorso del corso di laurea. È un corso di laurea in? Architettura. Pertanto il fatto che voi siete interessatissimi, ad esempio, sul tema della riproduzione degli scoiattoli nel Quebec è fighissimo come tema, è di approfondimento, però non è esattamente pertinente a un corso di laurea in architettura. Se già andiamo sulla flora e la fauna ci può essere qualcosa che poi si può rintracciare sul tema del paesaggio, dell'integrazione del paesaggio. Però lo scoiattolo che si riproduce nel Quebec è un tema fighissimo, ma non è esattamente il tema che voi dovete andare ad illustrare. Ultimo punto, il modo corretto e appropriato del linguaggio tecnico scientifico. Allora, ho disegnato una casa bellissima, ok, passa anche questo concetto, però forse casa potrebbe essere espresso in abitazione, residenza, residenza temporanea, residenza per studenti, residenza per anziani. Bellissima, può essere espresso in altri modi, utilizzando degli aggettivi che non siano proprio quelli basici, no? Nanna, pappa e cacca, ok? Però questo a dire che è molto importante utilizzare un linguaggio appropriato. Io parlo da vecchio tecnologo oramai e qualcuno degli studenti che ha avuto la disgrazia di incontrarmi il secondo anno lo sa, dire muro mi sta bene, però sapete che da un punto di vista della classificazione abbiamo, Emilian, le chiusure esterne e le partizioni. Ti ricordi vagamente? No, niente. Quindi abbiamo le chiusure esterne, abbiamo le partizioni, quindi voglio dire, parlare ad esempio di restauro filologico ha un significato molto importante, quindi la terminologia di nuovo deve essere appropriata, quindi fate attenzione anche a questo elemento. E ancora qui è riportato e ve l'ho richiamato sin dall'inizio, il lavoro deve essere svolto in maniera assolutamente autonoma. Immagino che sia inevitabile che voi vi confrontiate con i vostri colleghi, ma è un lavoro autonomo. I termini sono ovviamente quelli riportati sulla guida dello studente per quanto attiene l'iscrizione all'esame finale, non voglio aggiungere nient'altro perché su questo la segreteria studenti, il portale della didattica sono piuttosto chiari e credo che vi sia già stato comunicato insieme alla convocazione di questo incontro, quella che sarà la data ultima entro la quale consegnare alla segreteria del collegio di architettura, cioè qui al castello, nella persona di Maria Saura, la prova finale, so già che addirittura qualcuno di voi l'ha già anche consegnato in forma super preventiva, va benissimo, sappiate comunque che verosimilmente la data della prova finale noi cerchiamo sempre di farla coincidere con la primo giorno della sessione di laurea. La sessione di laurea inizia il 24 di settembre, quindi in relazione al numero di scritti e in relazione al numero di commissioni che siamo in grado di mettere insieme, la mattina del 24 e il pomeriggio del 24 dovrebbero essere, dovrebbe essere a questo punto il giorno, la data principale all'interno della quale le prove verranno discusse, anzi verranno valutate e poi verrà fatta la proclamazione. Quindi se è per una questione legata alla zia, alla nonna, ai parenti che devono arrivare da Bari, Bitonto, Matera in provincia di Matera, non sappiamo più dove sia collocata, probabilmente è stata annessa cinque giorni fa alla Puglia, quindi se avete i parenti che arrivano da province curiose d'Italia e del mondo, tendenzialmente potete dirgli che si tratta del 24. Io dico tendenzialmente perché dovete considerare che noi dobbiamo formare delle commissioni sulla base della disponibilità dei docenti che abbiamo a disposizione, ok? Quindi nel momento in cui non riusciamo a formare delle commissioni per il 24, ma dobbiamo ad esempio suddividere in due giorni, è inevitabile che faremo il 24 e il 25. Questo non dipende dalla cattiva gestione della segreteria, non dipende dalla cattiveria dei docenti, dipende da situazioni contingenti che fanno sì che non si riesca in alcuni casi a formare tutte le commissioni. Da che sono io referente? Tendenzialmente, visto che io sono sempre stato impegnato nella formazione delle commissioni, siamo sempre riusciti a far tutto il primo giorno, quindi non dico di essere in una sorta di botte di ferro che ci mette nelle condizioni di massima sicurezza, però dovrebbe essere la giornata del 24, la giornata dedicata alla discussione dell'elaborato. Veniamo un po' a quelli che sono a questo punto gli argomenti e i contenuti del portfoglio. Anche qui, nella sezione del programma, quindi sempre sul portale della didattica, voi trovate una descrizione che è assolutamente accurata e completa, quindi non c'è necessità di grandi commenti supplementari. Voi però sapete che il portfoglio è di nuovo un po' al pari di quanto avviene e sta avvenendo in altre scuole di architettura, normalmente è suddiviso in due sezioni, anzi è suddiviso in due sezioni. Una sezione dedicata ad un breve curriculum che più o meno coincide con un foglio di A3 o al massimo due fogli in A3 e una sezione portfoglio, rispetto al quale non ci sono dei limiti massimi di pagina che possono essere realizzati, esistono diciamo dei requisiti minimi invece che devono essere rispettati in merito a quella che è la selezione di quelle che sono state le vostre esperienze, tra laboratori, atelier, corsi ed esperienze extracurricolari. Allora, il curriculum che viene proposto sul portale e che potete, come ben sapete, scaricare sia in formato pdf sia in formato in design dalla bacheca studenti, è un curriculum base europeo, quindi è necessaria una vostra foto reale, recente, perché anche qui cominciamo con... oramai essendo già passato un po' di tempo ci sono già un po' di aneddoti, c'è chi ha pensato bene di farla passare su Instagram e l'ha fumettizzata, c'è chi per ragioni che io posso anche ben comprendere è un po' come me che ha un po' diciamo la riga in mezzo larga e si è presentato con una foto con un ciuffo lungo un chilometro. Ora, è vero, anch'io ho avuto i capelli, pensa che è esperienza galattica, era più vero come i tuoi. Però mettete delle foto recenti, ok? Poi tanto una verifica verrà fatta in forma... è discrezione della commissione, fare una verifica della corrispondenza ovviamente tra la foto, il curriculum e la persona che si presenterà il giorno della proclamazione. Quindi altra cosa che si è verificata, non delegate a nessuno la presenza. Su architettura devo dire che non è successo, su architecture non me ne vogliono i nostri amici cinesi, che qualcuno avesse delegato qualcun altro per presentarsi il giorno della discussione e della valutazione del portfoglio, questo è avvenuto. Voi dovete inserire ovviamente le competenze che avete maturato, non necessariamente le competenze sono tutte legate alla formazione che avete maturato all'interno del corso e del programma di architettura, pertanto potete anche comprendere delle esperienze di tipo extracurricolare che ritenete significative, ma di nuovo fate attenzione a che cosa inserite, perché il nostro amico Scoiattolo che sta nel Quebec, di nuovo è un argomento interessantissimo ma poco pertinente all'architettura. Pertanto se nell'ambito della vostra esperienza curricolare avete fatto dei workshop che non sono stati riconosciuti ma che in qualche modo avete ritenuto particolarmente interessanti, avete avuto modo in un'esperienza estiva di fare un viaggio di istruzione organizzato da qualche gruppo, associazione che vi ha consentito ad esempio di conoscere un certo tipo di architettura vernacolare nella Siria, è assolutamente invece interessante che voi questi elementi li possiate portare e mettere in evidenza. Il portfoglio invece che costituisce la parte più corposa del lavoro deve essere rigorosamente fatto in maniera conforme e coerente alle linee guida cosiddette editoriali, quindi una 3 non può diventare una 2, i bordi e i margini devono essere tendenzialmente rispettati, non dovete cambiare in maniera eccessiva l'interlinea, non dovete cambiare il font perché sono spesso domande che poi vengono fatte dopo diciamo nel cosiddetto question time, dopo la presentazione e anche poi via mail. Allora il portfoglio può non essere il più fico del mondo da un punto di vista del layout, anche i nostri colleghi spesso e volentieri ce l'hanno criticato dicendo che è un po' rigido, sta banda grigia che cosa serve e magari nel prossimo anni grazie anche al fatto che abbiamo un professore di disegno a rilievo saremo nelle condizioni di migliorare l'appeal grafico del lavoro, però di fatto siamo partiti da questo lavoro che è stato sviluppato insieme ad altri colleghi, questo è il layout all'interno del quale ci dobbiamo muovere, c'è un logo del Politecnico del quale dovremmo essere minimamente orgogliosi, non dimentichiamo mai che questa non so per quale motivo, ma è sempre una delle migliori, tra le migliori 50 scuole a livello mondiale, quindi ecco c'è sempre un brusio, ma com'è possibile? No ho sbagliato a scuola, no lo so, sembra incredibile, ma giuro che siamo 43 esimi su 50, quindi voi pensate come sarà la 51 esima a questo punto? 43 su tutti, sì, sulle 50, tra le migliori 50, scusate. Quindi il portfoglio come c'è scritto ha un requisito minimo, prevedere almeno tre esperienze di carattere formativo. E vediamo quelle che sono le esperienze di carattere formativo, tendenzialmente, di nuovo qui non ci sono regole rigidissime, ma dovrebbero essere quanto più possibile, seguite, dovete inserire almeno, e questo è inevitabile, almeno un atelier svolto nell'ambito del triennio. A partire dal primo al terzo anno, l'atelier diciamo è un requisito minimo che deve essere assolutamente soddisfatto. Almeno un insegnamento tra quelli previsti dal piano di studi, quindi un corso monografico, ok? O eventualmente un laboratorio che avete frequentato, eventualmente, aggiungo ancora, svolto in un programma di scambio internazionale. Infine, almeno un'attività che dovrebbe far parte del cosiddetto pacchetto dei crediti liberi, cioè l'attività formativa esterna all'Ateneo, che questo è, come ben sapete, comprendono varie opportunità. Il tirocinio, i workshop, i corsi, una combinazione tra workshop e corsi, eventuali laboratori che vi sono stati riconosciuti dal referente come attività formative esterna all'Ateneo. Allora, io so, perché questo è un problema che si è verificato sin dalla prima volta che abbiamo introdotto il portfolio come nuova modalità di prova finale, che per molti di voi quest'ultimo punto, quello relativo ai crediti liberi, è sempre un po' critico. Per quale motivo? Tanti. Io ve ne richiamo alcuni, nel quale alcuni di voi si possono riconoscere. L'attività di tirocinio non era all'altezza di quello che mi aspettavo. Eh, è una cosa che può capitare. L'attività di tirocinio era all'altezza, ma poiché stavo progettando la nuova sede della NASA, non posso assolutamente divulgare neanche un'informazione. Anche questo può capitare. L'attività di tirocinio mi interessava, però a fronte del fatto che io devo anche individuare un tema portante, un tema conduttore, per quanto attiene la presentazione del lavoro e quindi la selezione, inevitabilmente io faccio fatica ad introdurre a questo punto quell'esperienza di tirocinio all'interno della presentazione e quindi all'interno del portfolio. In questi casi che cosa può avvenire? Beh, non c'è nessun problema, anche questo comunque scritto in maniera abbastanza chiara sulla sezione piano di studi, nella prova finale, voi potete andare a sostituire un workshop, un tirocinio con un altro insegnamento o un altro atelier, ok? Quindi l'atelier e il corso sono inamovibili, ok? Devono essere assolutamente inseriti. Sull'ultimo punto è quello dei crediti liberi, tendenzialmente si auspica e si raccomanda che venga selezionata una delle esperienze delle cosiddette attività formative esterne all'ateneo, ma con dei gradi di libertà che sono dovuti al fatto che, e qui arrivo a un punto fondamentale che caratterizza il portfolio, ci sia una sorta di, il rispetto di una sorta di denominatore comune che sia un po' il percorso narrativo del vostro portfolio. Prima ho parlato molto di lavoro di autocritica e lavoro personale, aggiungo un'ultima cosa che è fondamentale, importantissima, anche questa riportata nero su bianco sul piano di studi. Quando voi andate a selezionare un atelier, un laboratorio, un insegnamento, una delle varie attività, è molto importante che cerchiate di individuare una sorta di, in francese si direbbe leitmotiv, fil rouge, filo conduttore, denominatore comune, tema comune, che caratterizza il vostro portfoglio. Perché lo dico? Proprio perché non deve essere una semplice raccolta di esperienze che poi tra di loro non hanno nessun legame. Ogni volta che faccio questa presentazione cito alcuni esempi che mi sembrano significativi. Il tema quale può essere? Il denominatore quale può essere? Può essere una disciplina, può essere un tema specifico, il restauro. Allora, inevitabilmente se il tema che mi interessa di più è quello del restauro dei monumenti, degli edifici, cercherò di privilegiare quelle esperienze o quella chiave di lettura che in qualche modo privilegia proprio il tema del restauro come tema portante. Quindi andrò a selezionare un atelier dove probabilmente la disciplina del restauro è una delle discipline che guidava quell'atelier, oppure andrò a selezionare il corso di insegnamento di teoria del restauro, oppure ancora andrò a selezionare o andrò a descrivere nell'ambito di quelle attività formative, magari una porzione del lavoro di tirocinio del quale insieme ad alcuni professionisti ho avuto modo di sviluppare un tema che era quello del restauro, della ristrutturazione di un manufatto esistente. Ok? Quindi questo potrebbe essere una chiave di lettura. Ammetto però che molti dei vostri colleghi in questi anni hanno saputo, e devo dire che questo è un elemento che dimostra che la vostra capacità autocritica in realtà è molto matura, individuare temi diversi. Per esempio, sei mesi fa un vostro collega ha individuato un tema che era il vuoto. Lei ha fatto una faccia come dire il vuoto. Di vuoto nei nostri cervelli ce n'è tantissimo, quindi potremmo, voglio dire, immagino sempre un neurone come la particella di acqua lette che dice c'è nessuno. Però, no, il tema del vuoto invece è un tema molto interessante. Perché voi immaginate, ad esempio, nel rapporto della città compatta, della città costruita, l'interconnessione, la relazione che c'è tra spazio libero e spazio costruito, tra vuoti e pieni, tra quello che è il ritmo che in alcuni casi si può dare o si può leggere ai nostri edifici. Il tema del vuoto è un tema importantissimo, è un tema che riguarda la progettazione degli spazi urbani. Perché il vuoto, ad esempio, è un tema che può essere affrontato in varie misure. Lo spazio urbano noi lo percepiamo, e qui si entra anche in aspetti psicopercettivi, in molti modi diversi. Quindi non è assolutamente detto che il tema debba essere disciplinare. Il tema può essere anche trasversale e non necessariamente in qualche modo caratterizzante in maniera completa un'esperienza di laboratorio, un'esperienza di atelier o un'esperienza di insegnamento. Perché il tema potrebbe essere anche quello, che ne so, del... Adesso vado su una cosa che conosco un po' meglio. Il tema, ad esempio, della compatibilità dei materiali. La compatibilità di un materiale da costruzione può essere letta in varie modalità. La compatibilità del materiale rispetto agli agenti atmosferici, che allora ci riporta a un tema come quello del restauro. La compatibilità dei materiali rispetto a quelle che sono le connessioni e i legami che crea con gli altri materiali. Banalmente dei temi legati alla scienza dei materiali. Come un materiale reagisce in maniera diversa rispetto alle modalità con cui viene posato in opera. Oppure ancora il tema della compatibilità ambientale dei materiali a fronte del fatto che noi, come architetti e costruttori, ogni volta che progettiamo, ogni volta che realizziamo un edificio, inevitabilmente ci portiamo dietro un impatto ambientale molto significativo. Quindi capite che il tema può essere assolutamente libero nella sua identificazione. Se vi sentite più, diciamo, in una sorta di comfort zone, che è quella di scelgo una settore disciplinare per cui è più facile, non c'è problema. Non è che siete penalizzati, ma quello che è importante è che capiate che il tema lo potete sviluppare rispetto alle vostre attitudini. Di nuovo, attenzione che il tema debba essere facilmente correlabile all'architettura. Quindi se la vostra passione è lo scogliatolo del Quebec, cioè il tema della riproduzione in architettura può essere in qualche modo affrontato, ma bisogna un po' svilupparlo in maniera appropriata. Spero su questo di essere stato sufficientemente chiaro. Veniamo a questo punto alle modalità di valutazione. Voi sapete che non esiste più la discussione, perché la valutazione viene fatta ex ante dalla commissione attraverso un lavoro rigoroso, se no non vi avremmo mai sgamato a copiare e andare in plagio, ok? Quello che invece è il vero e proprio svolgimento della prova finale, lato studente, è la cosiddetta proclamazione. Il che significa che voi riceverete, una volta che vi siete iscritti in via definitiva all'esame finale, a prescindere dalle condizioni di iscrizione con riserva, riceverete una comunicazione in cui vi sarà detto che in un determinato orario avverrà la proclamazione. In funzione del numero di studenti, che possono essere più o meno numerosi, noi la proclamazione la facciamo o in un'unica soluzione, quindi tutti insieme, oppure suddivisi in squadre, se siete in 70 non è pensabile che voi possiate stare in una fila tutti e 70. Poi tenete conto che le aule del castello sono quelle che sono, quindi noi abbiamo un coefficiente moltiplicativo per cui ciascuno di voi mi sembra che si porti un parente e mezzo da casa, quindi se la capienza dell'aula è di 70 posti, si va presto a fare i conti, ok? Quindi difficilmente si riesce a portare più di 20 studenti per volte in proclamazione. Non sono ammessi scambi, per cui se siete previsti alle 12 non pensate di presentarvi alle 13, perché con Pina avete deciso di cambiarvi, eccetera, eccetera. Quindi per cortesia, io mi rendo conto che poi voi ci teniate la presenza di amici e parenti, però noi siamo davvero in regole di sicurezza che sono abbastanza restrittive, quindi non abbiamo grandi margini di flessibilità. La commissione che ha valutato, quindi tutto quello che vi ho detto prima, non lo ripeto più, a quel punto procederà con la proclamazione esprimendo il voto in 110, su 110, ok? In 110, su base 110. Le ho dette tutte così potete selezionarne una. Allora, nonostante tutto quello che vi ho raccontato, a fronte del fatto che conta moltissimo ovviamente la vostra esperienza formativa nei 177 crediti precedenti, la valutazione complessiva che noi possiamo darvi è molto stretta, quindi siamo in un range compreso tra 0 e 2 punti, 0, 0, 5, 1, 1,5 fino a 2, quindi però non abbiamo ovviamente margini supplementari su cui esprimere la valutazione. Ciò non toglie che è molto importante che voi il portfoglio lo facciate molto bene, perché è vero che potete dire, chi se ne frega, tanto comunque ho la media alta, però è anche vero che portarvi a caso un'ottima valutazione del portfoglio anche un buon inizio, soprattutto per quello che potrebbe essere un'esperienza sul percorso di laurea magistrale. Questo l'ho già detto, quindi la determinazione degli esami è su base 110, la valutazione complessiva a cui invece si può arrivare per quanto attiene la prova finale nel suo insieme, quindi non tenendo conto solo del portfoglio, quella che vedete riportata, e qui sono regole di Ateneo rispetto alle quali noi non possiamo fare molto, anzi, dalla segreteria didattica ci arrivano già tutte le prevalutazioni calcolate, quindi fatevi pure i conti a parte, però anche qui non è la commissione che stabilisce due punti, o fino a un massimo di due punti per il tempo impiegato o per il percorso dello studente, quindi quel massimo di due punti per il tempo impiegato è dato in relazione all'effettivo tempo dall'iscrizione alla laurea a scalare, tutto è riportato sulla sezione pieno di studi, quindi lo potete trovare descritto, il percorso di laurea dello studente, anche questo è prevalutato sulla base della vostra media su 110, l'unico elemento che può ancora essere a discrezione della commissione, quindi come elemento aggiuntivo che va oltre il portfoglio, riguarda l'assegnazione della lode, l'assegnazione della lode ovviamente è direttamente correlata a quanti numero di lodi voi avete maturato durante il vostro percorso formativo, pertanto se a media pulita si arriva su 110, avete due o tre lodi, è discrezione della commissione, guardando anche un po' quello che è il percorso complessivo che voi avete condotto, laurearvi con una votazione a base 110, ma con 110 e lode. Questo è quello che ritrovate sul portale, l'ho ritrovata anche nel regolamento didattico di Ateneo, quindi è riportato su più di un documento, entro dicembre del terzo anno si possono prendere sino a un massimo di due punti, si prendono di default, scusatemi, due punti, entro marzo del quarto anno 1,5 punti, entro dicembre del quarto anno un punto e a seguire oltre dicembre del quarto anno ci sono di default zero punti. Ultimo punto invece di questa presentazione, devo dire che la parola punto in questa presentazione l'ho ripetuta più di una volta, riguarda layout, formato e regole editoriali. Anche di questo ho già detto molto, quindi non dovrei aggiungere di più a quello che è riportato, però due o tre indicazioni supplementari le vogliamo dare, allora io so che per molti di voi non è facile affrontare un tema della scrittura, della stesura di un report tecnico o di un generale elaborato scritto, perché durante il percorso formativo per svariati motivi non avete avuto tante possibilità probabilmente per scrivere una relazione. È una cosa che si può comprendere, che si può assolutamente capire. Detto questo però è molto importante che voi leggiate le indicazioni generali che sono riportate sulla bacheca, affermo restando che non coincidono la lettera con quello che poi dovete riportare all'interno del portfoglio. Le linee guide editoriali sono linee guide delle buone pratiche, ok? Delle buone pratiche che dovrebbero essere in qualche modo seguite in linea generale, ok? Non sono tarate al millimetro quadrato in maniera super precisa sul portfoglio, però vi danno delle indicazioni di massima su come eventualmente fare dei riferimenti note, delle citazioni, dei riferimenti bibliografici. Lo dico perché questa è la prima palestra che voi potete fare qui da noi, ma importantissima, poi per la fase successiva, cioè quando vi scriverete la laurea magistrale. Per quanti di voi hanno intenzione di proseguire un percorso di laurea magistrale al Politecnico nella Scuola di Architettura, e in generale al Politecnico, anche se andate in un altro corso di laurea, qualora voi siate così interessati a fare altre esperienze e vi riconoscano dei crediti, c'è una procedura che vi possono confermare molti vostri colleghi della laurea magistrale che è la procedura antiplagio. Pertanto tutti i vostri testi verranno digeriti da un cervellone elettronico del Politecnico che vi dirà qual è la percentuale di testo che avete copiato. Imparare a fare in maniera opportuna, adeguata e corretta una citazione, prima imparate meglio è. Quindi considerate il portfolio anche come la prima palestra per poter iniziare a fare questo tipo di lavoro. Come vi raccontavo prima, il font e la grandezza sono disponibili sul portfolio. Non iniziate a scrivere, se io ho un carattere 11, lo dovessi fare 10,8, va bene uguale? Sì. Se però mi passate dal 10 al 5, no. Quindi nei limiti del possibile, se si tratta di cambiare di un millimetro o due l'inquadramento della tavola, tanto neanche Massimiliano Loturco che è un professore di disegno a rilievo, va lì, tu lo farai, vero? Con il millimetro a misurare che tutto sia perfetto. Però non cambiate radicalmente il formato. E per cortesia non siete tantissimi, però non iniziate a scrivermi tra due giorni se cambio di un millimetro il portfolio, se tolgo la cornice, perché poi io devo dire che cerco di rispondere a tutti ma poi vado in monosillabi, quindi dico sì, no, forse. Ok? Quindi mi raccomando, eh? Rispettare le indicazioni contenute nel layout. Il layout è questo. Piace, non piace? Non piace molto. Però vabbè, ce lo teniamo così almeno ancora per questa tornata e forse anche per quella di dicembre. Questa è la sezione dedicata al curriculum. Potete, se possibile, state in un formato A3, che è quello previsto, se no potete anche aggiungere una pagina, qualora abbiate un curriculum scoppiettante, pieno di cose interessantissime che ci volete raccontare. Idem per quello che riguarda la sezione portfolio, il formato in A3 orizzontale o verticale. Avevamo inserito dall'inizio il formato orizzontale e verticale basandosi sul principio che laddove la maggioranza si muoveva su una soluzione, quella sarebbe stata poi quella definitiva, ma a fronte di tante esperienze abbiamo visto che c'è un 60% che privilegia l'orizzontale e un 40% il verticale. Quindi non dico che siamo pari e pari, però tutto sommato anche il formato verticale ha funzionato piuttosto bene. Laddove avete ad esempio massimo 1.400 caratteri e ve ne vengono fuori 1.415, è il caso di scrivere al referente? Ci siamo capiti, ok? Altra cosa, vedete che ad esempio c'è scritto credit of choice, che sarebbero in qualche modo i crediti liberi tradotti in lingua inglese. È ovvio che se il credito libero diventa un atelier o diventa un corso, bisognerebbe cambiare il testo, ok? Allora, credo che il formato in design ve lo consenta, qualora ci fossero dei problemi, delle limitazioni, dovuto al fatto che ci sono ancora delle parti di in design che sono fisse, che sono statiche, che non possono essere editate, piuttosto ci fate una stringa sopra, ok? Sui colori siamo più flessibili, nel senso che a me piacevano tanto, voi me li hanno criticati, credo anche di essere vagamente dal tonico. Quindi questo è un po' il format. Quello in verticale lo vediamo riportato in queste immagini, quindi non ci sono dei cambiamenti significativi, se non per quello che riguarda proprio il format generale. È vero che qui avete in teoria a disposizione uno spazio minore, questo è vero, però non vi preoccupate anche qui. Domanda che mi è arrivata. Scusi prof, lei ha detto che non è necessario, anzi no, egregio professore, perché scrivete sempre così bene, egregio professore, virgola. Vorrei sapere, io assolutamente non posso selezionare un'attività formativa esterna all'Ateneo. pertantamente, pertanto, questa era una citazione da Camilleri, pertanto decido di prendere un corso, però ho visto che lo spazio a disposizione non è identico a quello del corso. Cosa devo fare? Io mi rendo conto che insieme al buco dell'ozono, all'anidride carbonica, alla fame nel mondo, e all'ISIS che ci fa saltare per aria, sia uno dei problemi più disastrosi che l'umanità deve affrontare. Però, di nuovo, credo che la risposta può essere lo adattate. Ok? Quindi anche questo, credetemi, non è un problema che dobbiamo affrontare a livello di tragedia umanitaria in maniera dettagliata sin da subito. Comunque, abbiamo cercato anche qui nel tempo di migliorare un po' il format in modo tale da renderlo più flessibile, ci sono ancora degli elementi un po' critici, ma a breve verranno risolti in via definitiva. Ultimo punto, ultimo aspetto che riguarda le linee guida sono quelle riportate qui, che sono le modalità con cui fare le citazioni in nota, le citazioni di testi copiati, le bibliografie, i libri, i vari siti internet e quant'altro. È indubbio che queste sono regole generali. Altra domanda che mi è stata posta in passato. Prof, mi scusi, ma io ho scritto tutto di mio pugno. Devo mettere su un atelier che è una qualche riferimento bibliografico? Beh, dipende. Allora, io non sono della teoria creazionista. Chi è passato nelle forche caudine dei miei atelier, delle mie esperienze progettuali, sa che io non accetto il verbo creare quando si progetta. Perché per me la creazione è stato uno, che a un certo punto ha fatto un mucchietto d'argilla, è improvvisamente nato un uomo. Poi gli ha tirato via una costola, senza anestesia neanche locale, e ha creato la donna. Allora, io ho massimo rispetto per le teorie creazioniste, però a me sembra che l'architettura in realtà nasca da un percorso prima di conoscenza, poi di progettazione, e se nella vita siete fortunati, di realizzazione e di costruzione. Quindi, creare va bene, se ho creato questa struttura, però il fatto che passiate da un percorso di conoscenza, che cosa significa? Significa che in qualche modo magari qualche architettura vi ha ispirato. Fate storia dell'architettura contemporanea, proprio il primo anno, perché avete dei riferimenti, dei masterpiece, dei punti rispetto ai quali, dell'architettura contemporanea, rispetto ai quali può essere che voi vi siate ispirati. Quindi in questo caso, riportare un riferimento bibliografico di un edificio che avete avuto modo di approfondire durante lo sviluppo di un progetto, non mi pare che sia fuori luogo. Se però proprio è tutta farina del vostro sacrosantissimo sacco, e siete degli integralisti delle teorie creazioniste, bene, non c'è nessun problema, potete anche non mettere alcun riferimento bibliografico, perché è tutta farina del vostro sacco. Quindi non vi sentite in dovere assolutamente di farlo. Ok? Anche qui, per quello che riguarda le regole generali, sono riportate ovviamente sia in italiano che in inglese. Molto bene, quasi benissimo. Vi ho visti tutti addormentati alla terza slide, come spesso avviene, quindi per ulteriori informazioni a questo punto vi rimando ad una lettura attente ed accurata, mi raccomando, del portale, questo tenete sempre a mente, prima di scrivere una mail al referente, anche perché io adesso faccio un forward direttamente a Massimiliano Loturco, quindi mi raccomando, no, leggete attentamente perché molti dei dubbi che vi vengono possono essere risolti facilmente leggendo il programma. Le date, ve le abbiamo date, consideratele come potenziali, quindi avvertite i vostri parenti. Ah, un'ultima cosa, questo è molto importante perché non è riportato e non possiamo scriverlo. Allora, nell'ultima sessione di laurea ci sono stati parecchi, parecchie lamentele da parte della logistica su come ci sono, si sono comportati gli studenti e se vogliamo anche i docenti nell'ambito dell'attività di festeggiamenti immediatamente successiva alla proclamazione. Quindi io non ce l'ho con gli studenti del terzo anno che si laureano alla triennale, ce l'ho in generale, è un monito che faccio a tutti. Io lo capisco che è arrivato il nonno da Matera che ci teneva tantissimo ed è contento e ha portato i raudi e i fuochi d'artificio. Lo capisco che il festeggiamento nel tempo ha preso anche dei fenomeni di goliardia che una volta non erano tipici della rigida scuola Politecnica. Quindi su questo io capisco tutto. Però il problema è che quello è un cortile d'onore tutelato dalla sovraintendenza e per pulire gli avanzi dei raudi, le migliaia e migliaia di confetti che vengono lanciati, qualcuno ha lanciato dei sassi così per gentilità. Se viene da Matera cosa può viaggiare? Giustamente lancia i sassi. Ha lanciato i coriandoli di carta che a raccoglierli si impazzisce. Quindi io raccomando i vostri amici e parenti allora se dovete proprio picchiarvi non c'è problema organizziamo una rissa qua nel cortile alla vostra destra. Ok? Tafferugli chiamate quelli degli ultra della Juventus va benissimo. Però mi raccomando il cortile d'onore deve essere rispettato. Poi io mi rendo conto che non sarà facilissimo però ditelo ad amici e parenti in modo tale da limitare i danni. Altra cosa lo so che per certi aspetti è solo il primo passaggio magari di un percorso di laurea successivo però è sempre un momento istituzionale quello della proclamazione. Quindi raccomandate di nuovo di limitare danni e schiamazzi casini vari durante la proclamazione la proclamazione non deve essere fatta in funzione del video amatoriale girato dalla zia che magari è appassionata ancora della super 8 e quindi vengono quei filmati tutti storti è un momento istituzionale e come tale deve essere rispettato. Noi siamo dei pubblici funzionari in quel momento siamo dei funzionari dello Stato non sarà lo Stato migliore del mondo ma è uno Stato democratico che da 150 anni sta in piedi quindi bisogna far tutto con massimo rispetto noi nei vostri confronti e voi ovviamente nei vostri mi hanno avvertito che è ora che io finisca. molto bene se non ci sono domande specifiche e allora il question time come sempre funziona in questo modo non arrivate modello onda anomala sul Giappone alla cattedra alzate la mano fate la domanda in modo tale che magari una domanda che fai tu che può essere interessantissima vada a beneficio di tutti una domanda due domande no il carattere tendenzialmente dovrebbe essere quello riportato dal layout la copertina ma la copertina basta un trasparente non c'è bisogno di fare una copertina specifica l'altra domanda tendenzialmente sì è meglio sì è possibile nel momento in cui però tu lo descrivi nell'introduzione se è possibile sì se no altrimenti bisogna capire adesso qual è la parte statica del layout perché noi l'avamo fatto all'inizio molto statico per evitare eccessivi cambiamenti in modo tale che ci fosse diciamo una sorta di portfoglio uguale per tutti che sia un po' il portfoglio della scuola di architettura del Politecnico di Torino se hai questa difficoltà al limite valuta tu come riesci a costruire meglio la presentazione del tema si può parlare prima a fare un'introduzione in generale o deve essere proprio solo una chiave di lettura da spiegare a una mano sarebbe molto interessante che l'introduzione diventasse un po' l'illustrazione del tema generale e che poi quel tema generale nell'ambito delle colonne di testo che è a disposizione nonché degli spazi in cui ci sarà diciamo il disegno l'immagine fotografica lo schizzo quello che sarà ci siano magari dei commenti che sono utili di nuovo a comprendere il fatto di usare didascalie il fatto di usare parole chiave il fatto di inserire anche all'interno della parte grafica delle informazioni è molto importante io per esempio ho fatto due ingegnerie prima di passare ad architettura e qui lo inserisco all'interno di corso di l'architettura e faccio una decisione a parte no potrebbe no quello puoi decidere tu nel senso che se vuoi dividerlo in due lo puoi fare quello che potrebbe essere interessante è che tu illustrassi perché a un certo punto hai deciso di passare ad architettura poi certo che se la realtà è che non riuscivi a passare a matematica magari quello no no ok posso usare che l'italiano è in inglese dove tu lavora di più l'inglese tendenzialmente noi preferiamo una lingua sola se hai solo quell'esperienza in lingua inglese potresti lasciare magari le didascalie in lingua inglese o se ci sono delle parti che non possono essere corrette dei disegni in lingua inglese ma il testo riportarlo in italiano no il portfoglio tendenzialmente vi verrà restituito la proclamazione oppure viene conservato per alcuni mesi nel collegio di architettura e poi diciamo quelli più belli li stiamo conservando però cioè non è il caso nel senso che non dovremmo perderlo anche perché se lo perdiamo non possiamo fare la valutazione bene ragazzi bocca al lupo ci vediamo presto grazie 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 grazie